Per poter macinare la carne con il coltello, abbiamo bisogno di un coltello adeguato. Deve essere ben affilato e deve avere una lama spessa e lunga. Per ottenere un buon risultato, poniamo la carne su un tagliere e iniziamo con tagli paralleli e con movimenti oscillanti. Quando finiamo, giriamo il tagliere a 90 gradi e ripetiamo l'operazione. Quanto più ravvicinati saranno i tagli gli uni agli altri, più macinata risulterà la carne.